un'ottima alternativa alla classica pizza ovviamente irresistibile in una capiente dell'ina metti le foglie sembratate aggiungo l'acqua e poi l'olio il carbonato e poi il sal basta prima di andare via e poi si tirano dall'amico quando l'impasto sarà liscio coppia la macchina e lascia riposare sempre a me sapete che lo fai in sei parti a me 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 Musica 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 Focila, tranquila, piccola. Repare il condimento mescolando la passata di olio d'oro con il concentrato, sale, oligano e un ghiro d'olio. Metti poi le piadine su una leccarda. Spalma la passata di pomodoro condita, la mozzarella, un giro d'olio e metti in forno a 200 gradi fino a quando il formaggio non si sarà fuso. E voilà! Sì! Grazie a tutti.